Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebimeteo, mentre nell'Europa occidentale abbiamo qualche occhiata di sole, situazione del tutto differente su quella nord-orientale con delle nevicate, ma entriamo nel particolare di quanto accadrà invece nella nostra penisola, perché se la situazione al nord è su parte delle regioni tirreniche è buona, invece altrove abbiamo ancora delle nevicate sparse, nonché dell'instabilità con piogge. E quindi un brano da tenere a portata di mano, vediamo dove partiamo dal nord, dove come vi anticipavo la situazione è però più stabile, asciutta e soleggiata, delle nevicate ancora in Emilia Romagna, un po' di instabilità sulla costa e degli annuvolamenti sul Triveneto. Al centro Italia instabilità, piogge sulle coste e nevicate sulle zone interne, in particolare lungo la dorsale appenninica, così come a sud la situazione sarà di maltempo intenso, con neve anche a quote basse, nonché sulle isole maggiori, come vedete Sicilia è parte della Sardegna interessate. Aggiornamenti sull'app di Trebimeteo.